Ma io ricordo che quel giorno, il giorno in cui fu siglata e fu preparata qui a Treviso la carta, ero a Venezia, non ero qui, ma mi incontrai in Palazzo Labbia il Presidente dell'Ordine dei giornalisti e il Segretario della Federazione Nazionale della Stampa. Quindi siamo tornati da Treviso e abbiamo siglato una carta che poi diventerà una carta deontologica ma lì per lì francamente non ci avevo mica capito molto. La realtà vera è che la carta di Treviso è diventata uno dei momenti più importanti nel fare informazione che ci riguarda perché finalmente ha portato la civiltà nell'informazione. 5 ottobre 1990 nasce la carta di Treviso. Nel capoluogo della marca firmano a favore della tutela dei minori l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa Italiana e Telefono Azzurro. Da allora l'attenzione per i più piccoli, per chi non ha voce, non può difendersi, è cambiata e anche il modo di fare giornalismo. Oggi la carta di Treviso fa parte della deontologia di ogni giornalista. Se non la si rispetta ci sono sanzioni disciplinari davvero pesanti che sono state adeguate nel 2006 anche alle nuove tecnologie, quindi ai nuovi mezzi di comunicazione e informazione come la rete. La marca continua a ricordarci nel suo impegno a favore dei minori che l'interesse del bambino, anche colpevole di qualche crimine o coinvolto in fatti di cronaca, è posto sopra quello del diritto all'informazione e che nessun minorenne, per nessuna ragione, va consegnato all'agonia mediatica. Per fortuna, da quel 5 ottobre 1990, nel mare magnum delle comunicazioni, uno spiraglio certo di civiltà. Si divide in varie fasce, però la fascia più dolorosa, quella più penalizzata, è quella dei bambini. Noi ne vediamo a frotte, a maree di bambini che muoiono di fame ogni giorno, peraltro come ci dicono le statistiche. Quanto ci occupiamo di loro? Poco, tanto? Io direi non sufficientemente. La carta di Treviso è un qualcosa che invece ce la pone all'attenzione ogni giorno. e io direi che quando qualcuno dice sì, però in effetti, ma il nome lo possiamo fare perché tanto che c'entra, no, il nome non lo facciamo, il volto del bambino non lo mettiamo, perché il bambino ha diritto ad essere salvaguardato a tutti i costi.